all'ultimo tornante da sotto sempre lo scampiotti abbiamo raggiunto quota 2.300 metri e stiamo per attaccare il prossimo pezzo della vallata dal giro in fondo il nostro obiettivo che non è Silvano quello in piedi ma è quella montagna con la nuvoletta lassù quella punta dovrebbe essere la sommità del sommelier 3.300 metri noi ci formeremo al colle dove c'è il lago a quota 3.000 ancora circa 7 chilometri hai visto? butta i petali di rosa ragazzi traffico da bollino rosso vedi la neve lassù sulle creste una volta c'era l'estivo dice che si vedono ancora